La conferma ufficiale è arrivata, c'è questo ok al progetto definitivo, un intervento che si attendeva da anni. Beh, è una grande notizia per le Marche e per la nostra Regione. Proprio in questi giorni è stato depositato il progetto definitivo per la Galleria della Guinza e contestualmente il commissario straordinario del Governo per l'itinerario E78 ha dato disposizione a Danas, che poi è il soggetto autotore, di compiere tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera in tempi rapidi. Se mi permette Simona, vorrei ringraziare le due persone che vanno sicuramente ringraziate per questo obiettivo e sono il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'Assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, per aver posto sin da subito l'opera fra i principali obiettivi della nuova Giunta regionale. Pur nello scetticismo di molti e pur addirittura di fronte alla irrisione di alcuni loro avversari politici. Quale sarà il costo dell'intervento? Sono già stati stanziati 150 milioni, ai quali verosimilmente se ne dovranno aggiungere altri, ma un plauso va anche al Ministro alle Infrastrutture Salvini, al Vice Ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il quale ultimo era proprio nelle settimane scorse di fronte al traforo della Guinza, con la promessa solenne di sbloccare l'opera in tempi rapidi. Entrambi sono state persone di parola. Evidentemente dovevamo attendere di avere al Governo della Regione Francesco Acquaroli e al Governo della Nazione Giorgia Meloni, per vedere finalmente riconosciuti i nostri diritti di marchigiani che attendevano fermi lì da oltre 30 anni. Fondamentale in questa cinghia di trasmissione fra Regione e Stato e quindi Governo nazionale è stato anche il lavoro dei parlamentari eletti nel territorio, un lavoro che si è rivelato una carta vincente.